Ciao ragazzi, sono Valentina Colombo e oggi durante il Safer Internet Day voglio condividere con voi la mia idea di web. La rete è fantastica, non devo certo dirvelo io, però non pensiate che sia esente da rischi e da pericoli. Io sono dalla parte del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Vincenzo Spadafora, che sostiene questa giornata fondamentale per promuovere un utilizzo sempre più sicuro della rete. Internet è uno strumento importante, però per poterlo utilizzare con fiducia e con sicurezza bisogna informarsi e conoscere a fondo ogni suo limite. Quindi, let's create a better internet together. Creiamo un internet migliore tutti insieme, dei ragazzi, delle nostre famiglie, gli insegnanti, le istituzioni, al fine di rendere la rete un luogo sempre più sicuro. Fate come ve, visitate il sito www.garanteinfanzia.org e www.generazioniconnesse.it per navigare più sicuri.